bentornati amici siamo qui oggi per vedere un altro filtro dalla nostra filter gallery e andiamo a vedere spray strokes ovvero tratti a spruzzo questo è un effetto molto caruccio secondo me perché all'interno di tutta questa galleria filtri parlo dei brush strokes quindi di quelli che simulano dei pennelli abbiamo finalmente la possibilità di gestire la direzione da cui questi spruzzi provengono per cui abbiamo i soliti due fader che ci permettono di gestire la lunghezza del tratto adesso vado a ingrandire un po così vediamo meglio siamo a 200% quindi la qualità ovviamente è un po quella che è perché l'immagine non è grandissima quindi qui già stiamo avendo una caduta qualitativa però almeno vediamo quello che stiamo facendo se andiamo ad aumentare la lunghezza del tratto ovviamente abbiamo un tratto che si va ad allungare se andiamo ad aumentare anche il raggio ecco che abbiamo proprio un effetto di pennellata tirata secondo me questo effetto è abbastanza carino globalmente la cosa interessante rispetto ai pennelli che abbiamo visto negli scorsi video è che stavolta finalmente ho la possibilità di decidere la direzione quindi posso decidere se farlo orizzontale diagonale o verticale purtroppo non ho la possibilità di farlo incrociato ma se volessi farlo incrociato posso tentare con cross hatch che funziona proprio in quella maniera secondo me globalmente è un effetto carino anche se come appunto tutti questi effetti lo vedo più facilmente applicato a una texture che a una foto perché comunque come potete vedere la foto viene pressoché distrutta anche se ripeto può essere un effetto carino per realizzare un effetto artistico per esempio questo cielo a me ricorda un pochino adesso chi ha studiato storia dell'arte sicuramente saprà fare esempi più azzeccati ma mi ricorda quasi un po il cielo di van gogh soprattutto se vado ad aumentare la lunghezza ok quello di van gogh era più bello ovviamente non erano delle righe dritte ma erano decisamente più accattivanti però mi dà quell'effetto artistico che in certi casi potrebbe anche servirmi a qualcosa quindi è comunque bene sapere che questo filtro esiste